L'80% degli alberghi in Umbria è attualmente chiuso. Il dato è stato fornito da Federalberghi, seriamente preoccupata in vista del Natale, che per questa regione rappresenta una buona parte del fatturato annuo, ma che di fatto in questo 2020 dischia di essere un flop. Fondamentale dunque porsi sul mercato con una strategia che migliori le performance nel proporre se stessi. Lo affermano gli informatici che gestiscono piattaforme booking al lavoro in questi giorni per ridisegnare piattaforme internet e installazione di nuovi software. Questo è un periodo veramente molto duro per gli hotel perché sono obbligati ad uno stop forzato, quindi operativamente non possono proprio vendere le proprie camere, non possono aprire i propri ristoranti per chi li ha. Quindi è un momento difficile. Quello che ho visto, parlando con tantissimi albergatori, è che molti di loro si stanno mettendo in gioco cercando di studiare, cercando di imparare nuovi modi di distribuire le proprie camere, di gestire le proprie tariffe, di gestire la propria struttura in generale. Quindi questo anno, che è stato un anno sabatico in cui ci siamo trovati costretti a fermarci quasi o quantomeno a rallentare, molti l'hanno visto come un'ottima occasione per poter studiare, per poter approfondire certi argomenti. Noi questo lo vediamo anche tramite gli ascolti che abbiamo sul nostro podcast, per dire dove facciamo formazione alberghiera. Gli albergatori vogliono imparare, vogliono documentarsi, perché solo con la formazione si può poi eventualmente fronteggiare altri momenti di difficoltà che ci auguriamo non ci saranno, ma che realisticamente in futuro ci saranno comunque. Speriamo magari più piccoli rispetto a questo.